La serie MIM, invece, raccoglie le pietre tramite un rotore dentato azionato dalla forza del trattore. Con questo sistema possiamo eliminare tutte le pietre di dimensioni comprese tra i 3 e i 30 cm. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Dipendendo dal modello è possibile sollevare il silo da 1,90 m fino a 2,40 m, permettendo lo scarico delle pietre sul rimorchio. La capacità di carico varia dai 2.500 ai 3.800 kg, mentre la potenza richiesta dal trattore è tra i 75 e i 90 CV. Grazie a tutti!